Ben ritrovati all'appuntamento con la rubrica dedicata ai principali cantieri attivi questa settimana in Campania. Partiamo dalla 2 del Mediterraneo, dove sino a giovedì 31 gennaio, per interventi all'interno delle gallerie Castelluccio e Tanagro, è attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Petina e Sicignano degli Alburni in direzione Fisciano. Sulla tre Napoli, Salerno, per interventi di manutenzione sul viadotto Caiafa, Madonna degli Angeli, Vietri e Olivieri, tra lunedì 21 e sabato 26 gennaio, sono attive chiusure notturne. I dettagli al nostro sito www.moaverse.regione.campania.it Passiamo sul raccordo autostradale di Benevento, dove sino alle 18 di giovedì 31 gennaio, è attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra gli svincoli San Giorgio del Sannio e Castello del Lago in direzione della 16 Napoli-Canosa. E sulla strada statale 145 Sorrentina, per lavori sul viadotto San Marco, sino a venerdì 15 febbraio nella fascia oraria 21.30-6.30, escluse le notti comprese tra il sabato e la domenica, è chiuso il tratto compreso tra le uscite Castellammare Ospedale e Castellammare Villa Cimmino in entrambe le direzioni, mentre nella fascia oraria tra le 6.30 e le 21.30, esclusi il sabato e la domenica, è interdetto al traffico il tratto compreso tra gli svincoli Castellammare Ospedale e Gragnano in direzione Sorrento. In chiusura uno sguardo alla tangenziale di Salerno, dove dalle 22 del 21 gennaio alle 6 del 30 marzo, è attiva una riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Fratte e Via Irno in direzione Ponte Cagnano. Bene tutto per questo appuntamento, io mi fermo qui, grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.